Buongiorno a tutti, facciamo un breve aggiornamento rispetto alla situazione del Covid nel nostro Paese e diamo conto un po' delle attività che da qualche giorno stiamo mettendo in piedi per tracciare e isolare tutti i possibili contatti delle quattro persone positive che sono risultate positive qualche giorno fa. Abbiamo svolto in questi giorni ben 21 tamponi di cui 11 operatori del centro residenziale Lucrezia. Dico subito che gli 11 tamponi sono tutti negativi, però ahimè dei 21 sono risultati positivi numero 3 persone, tutte e tre appartenenti al nucleo familiare di una persona precedentemente positiva, tutte e tre in isolamento già da quasi dieci giorni, anzi forse pure qualcosa. Tutte e tre non hanno sintomi o hanno sintomi molto lievi o come direbbero i medici sono pauci sintomatici ai quali da parte di tutti quanti noi va l'augurio di una pronta e veloce guarigione. Alla luce di questo screening effettuato negli ultimi giorni crediamo di riprendiamo, c'è stato qualche problema di connessione di questi risultati dell'incessante lavoro di questi giorni crediamo di poter dire che la situazione è pienamente sotto controllo e pensiamo di aver circoscritto e ridotto, isolando tutte le persone che sono contagiate e quindi pensiamo di aver la situazione sotto controllo, non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti immediatamente